buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 4 aprile 2023 e vediamo subito chi si festeggia nella giornata di oggi vediamo subito la grafica e troviamo sant'isidoro di siviglia sant'isidoro è un nome che a fano fa venire subito alla mente un sacerdote era il parroco di sant'ommaso era il prete che ufficiava in quella chiesetta nel corso di fano che ha lasciato un buon ricordo era anche un bravissimo insegnante di scuola superiore sant'isidoro ma il santo di oggi è sant'isidoro di siviglia nacque a cartagena da una famiglia nobile pensate questa famiglia aveva quattro figli e tutti furono santi furono santa leandro san fuigenzio e santa fiorentina oltre a santi isidoro e isidoro fu nominato vescovo di siviglia dopo la morte di suo fratello che lo aveva preceduto in questa carica il fratello leandro ebbene lavorò per la conversione dei visigoti che allora avevano occupato la spagna siamo tra il sesto e il settimo secolo e fu anima dei concili che si tennero in quel periodo isidoro morì nel 636 le previsioni del tempo oggi sulla regione marche ci saranno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata i venti saranno soprattutto al mattino forti da nord e nord est al pomeriggio tesi da nord sempre nord est sempre nella stessa direzione il mare è molto mosso le temperature si aggirano tra il 6 e gli 11 gradi fa ancora piuttosto freschino mentre il sole solge alle 6 44 e tramonta alle 19 e 38 queste sono un po le previsioni del tempo la primavera ha subito un rallentamento rispetto ai giorni scorsi apriamo il giornale sulla pagina del resto del carlino la pagina di fano e vediamo come anche sul corriere adriatico c'è un ritorno sulla notizia della rissa tra i tifosi che è scoppiata domenica scorsa nel grande parcheggio nei pressi di ponte metauro derby della follia così viene definito la partita che si è svolta tra l'alma juventus e la vigor senigallia derby della follia lungo la statale colpito al volto anche un poliziotto ferito uno degli agenti che sono intervenuti per sedare i tumulti gli scontri tra gli ultras di fano e la vigor e quelli della vigor senigallia si stanno visionando a questo proposito le immagini per attribuire i daspo appunto i provvedimenti che vieteranno i tifosi più facinorosi a partecipare alle prossime partite miccia forse innescata per la presenza degli iesini i quali hanno sempre una versione nei confronti dei tifosi del senigallia e quindi c'è stato anche questo innesto una specie di miccia che ha reso più focosi gli animi in questa situazione comunque c'è un poliziotto del commissariato di fano che è risultato ferito anche se lievemente dobbiamo dire ebbene avrebbe ricevuto un pugno in faccia nel volto e quindi è stato ricoverato è stato curato dal pronto soccorso e ha ricevuto una prognisi di pochi giorni il tutto mentre tentava di separare gli ultras che si picchiavano ebbene di certo l'intervento della polizia dei carabinieri dopo in giunti in rinforzo ha evitato che gli incidenti avessero delle conseguenze ben peggiori comunque sempre un atto un atto brutto quello che si è verificato appunto in questo grande parcheggio quasi che fosse una cosa premeditata stavano attendendo i tifosi che giungevano da senigallia tanto è vero che il fatto è accaduto poco prima dell'inizio della partita ed ora vediamo un'altra notizia di sport che desta qualche polemica esclusi dalla squadra perché stranieri no una decisione solo tecnica ci sono quattro stranieri che sono stati licenziati dalla squadra del tavernelle una squadra che gioca in prima categoria quattro stranieri la cui presenza non si sarebbe ben integrata con il resto della squadra a parere della dirigenza invece a parere dei giocatori sembra che insomma la loro presenza non sarebbe stata ben gradita dagli altri giocatori insomma ci sono due versioni e due versioni contrastanti chi la denuncia è Amin Sabic 24 anni un italiano di origini marocchine che frequenta l'università ha la passione del calcio è anche un buon giocatore non sarebbe questo il fatto non sarebbe il suo dato tecnico che ovviamente l'avrebbe escluso ma il fatto insomma che non ha trovato una grande accoglienza da parte della squadra e quindi questi quattro ragazzi sono stati mandati via e questo insomma desta come dicevo alcune polemiche la stessa notizia viene riportata dal Corriere Adriatico abbiamo l'apertura nella seconda pagina un agguato preparato a tavolino negli scontri coinvolti i tifosi Iesini e si parla appunto della rissa e poi a fondo pagina licenziato dal tavernelle con gli altri stranieri l'amarezza di Amin che parla di invidie il direttore tecnico no dice non hanno rispettato le regole quando si è in gruppo occorre rispettare le norme che aggregano questo gruppo, questa società ebbene allora passiamo alle altre notizie come dicevo sul resto del Carlino continuiamo appunto la rassegna stampa degli articoli sul Carlino e vediamo come si parli di una iniziativa interessante ed è originale che è stata presentata ieri dalla Confesercenti si tratta di un bando a cui Fano ha partecipato anzi è la Lega Fano al Centro che ha partecipato con un suo progetto ad un bando regionale ricevendo dei contributi questa è un'iniziativa tra pubblico e privato che è molto interessante sentiamo come funziona io faccio l'acquisto in un negozio ricevo uno sconto che il negoziante mi fa può essere il 5, il 10% che non sono obbligato a proporlo allo stesso negoziante al prossimo acquisto ma me lo metto da parte me lo metto da parte vado in un altro negozio ricevo allo stesso uno sconto metto anche questo da parte poi quando ho un buon gruzzolo oppure quando mi sembra opportuno vado in un negozio e usufruisco di questo piccolo tesoretto per ricevere uno sconto accumulativo nel prodotto che acquisto in questo terzo, quarto, quinto negozio insomma è un'iniziativa imprenditoriale promozionale particolarmente interessante la Confesercenti lancia il cashback alla Fanese con il progetto Fano al centro il cliente acquista prodotti nelle attività aderenti sono circa 35 le attività del centro storico che fanno parte di questo gruppo e ottiene sconti grazie a un borsellino virtuale quello che dicevo del tesoretto l'iniziativa è partita dall'inizio di febbraio e ha già ottenuto l'adesione qui dice di 32 attività tra esercizi commerciali compresi bar e ristoranti artigiani e professionisti l'app è scaricabile è stata scaricata anzi da 400 cittadini consumatori e altri 32 hanno chiesto la card quindi si può scaricare l'app sul telefonino oppure ricevere proprio una card una piccola tessera da presentare agli esercizi che mostrano nelle loro vetrine la vetrofonia che dice che aderiscono a questo gruppo basta una card o scaricare un'app il progetto della omonima COP il comune e partner il progetto dell'omonima COP sarebbe Fano al centro quindi basta digitare Fano al centro la cooperativa che ha fatto questo progetto e ieri alla presentazione ha partecipato anche l'assessore al commercio Etienne Lucarelli che in questo momento si trova a Gandia dove svolge un'iniziativa promozionale nell'ambito del rapporto preferenziale che Gandia ha stabilito con Fano quindi il gemellaggio che è intercorso ed ora vediamo alla cronaca scontro tra auto e bici all'incrocio ciclista in codice rosso all'ospedale è accaduto nell'incrocio di via Lelli e di via Metauro l'impatto è avvenuto nel pomeriggio illesa l'automobilista ovviamente ne ha fatte le spese più la ciclista che stava attraversando la strada bisogna vedere se era in sella la bicicletta perché percorreva il passaggio pedonale oppure conduceva la bicicletta a mano paura ieri nel primo pomeriggio per uno scontro tra un'auto e una bicicletta ad avere la peggio è stata la ciclista una donna di 37 anni originaria di Torino e residente a Fano che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Croce illesa la conducente di una Citroen C3 una 57enne residente a Cartoceto l'incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 appunto tra via Lelli e via Metauro siamo nei pressi dell'ospedale e quindi occorrerà chiarire ora le dinamiche da parte della polizia locale veniamo a Durbino l'Odea Serpieri scienziato e umanista chi è Serpieri? è padre Alessandro Serpieri è uno scienziato umanista nato nel 1823 quindi ora ricorre un significativo anniversario nacque a San Giovanni in Marignano ma a lungo visse a Urbino nel collegio dei padri Scolopi dove lui era insegnante proprio l'università di Urbino Carlo Bo ha iniziato le celebrazioni in ricordo di questo personaggio importante era un personaggio importante nell'ambito della fisica della meteorologia della botanica della sismologia e dell'astronomia fu un docente e un ricercatore multidisciplinare Antelitteram ebbene le iniziative che lo riguardano iniziano il giovedì prossimo 6 aprile infatti alle 16.30 ci sarà un incontro alla scoperta dei pianeti rispetto alle previsioni che aveva fatto padre Serpieri il 5 maggio invece a Pesaro alle 10 a Villa Caprile si parlerà di padre Alessandro Serpieri precursore della moderna fenomologia infine il 29 maggio si tornerà al collegio Raffaello per l'incontro padre Alessandro Serpieri educatore nel solco delle scuole pie attraverso la modernità quindi oltre ad un scienziato anche un umanista di particolare importanza e qui vediamo un'immagine di padre Serpieri un personaggio tutto da scoprire non è molto noto ma influì in maniera determinante appunto all'epoca in cui visse siamo nel XIX secolo fiocco al furlo è nato un primo aquilotto non si sa se è rosa o celeste comunque è nato un aquilotto e questo è sempre un evento particolare avvenuta una schiusa della giovane coppia di rapaci che depone ogni anno il 22 febbraio è puntuale il 22 febbraio nasce un aquilotto si attende a giorni la seconda domenica scorsa nella riserva statale naturale della gola del furlo è nata la prima aquila del 2023 della provincia di Pesaro Urbino ed è veramente una cosa bellissima vedere questi bellissimi uccelli spiccare il volo nelle alte vette della gola del furlo condurre la loro vita la loro vita anche un po' violetta perché sono rapaci ma vederli così maestosi con queste grandi ali veramente è bello e fa respirare un'aria di tipo ambientale molto molto sentita ed è emozionante e hanno espresso però tutt'altre emozioni coloro che hanno partecipato invece all'ultimo saluto a Matteo il 42enne di Cagli che è deceduto in seguito ad un incidente stradale travolto da un furgone sulla autostrada A14 moltissime le persone che hanno preso parte ieri mattina al funerale di Matteo Fagiani che è morto la notte tra il 27 e il 28 marzo scorsi in A14 nel tratto tra Pesaro e Fano travolto da un furgone mentre viaggiava a bordo della sua Polo Volkswagen e poi vediamo che a Mercatello sul Metauro invece è stato inaugurato il nuovo centro prelievi sarà attivo sempre il mercoledì il servizio inizierà dopo Pasqua e punta a ridurre i disagi dell'utenza in modo particolare quella dell'entroterra evitando spostamenti più lunghi l'obiettivo è quello appunto di ridurre i disagi di spostamento della popolazione residente nelle aree più interne del Monte Feltro per accedere alle prestazioni sanitarie quindi un importante presidio di carattere sanitario che fa riferimento ad un largo strato di popolazione questo per quanto riguarda l'entroterra ora diamo un'occhiata anche alle notizie che giungono da Pesaro e vediamo come anzi è una notizia questa che interessa un po' tutta la regione non solo Pesaro si parla della bozza del piano sanitario che tra poco verrà confrontata con le categorie con le associazioni con i professionisti ecco il piano sanitario abbattere le liste d'attesa e la mobilità passiva intanto pergola cresce sono questi un po' gli intenti del piano sanitario il nuovo piano sanitario regionale che la Giunta si appresta ad approvare ecco la riorganizzazione del sistema messo a punto dalla regione il cup regionale viene spacchettato verrà reso a livello provinciale quindi le prenotazioni si faranno all'interno della provincia investimenti sulla diagnostica e quanto si prevede e ora la parola passa alle istituzioni ai sindacati per il via libera entro l'estate ebbene nella bozza del piano socio sanitario della regione che da qui a maggio sarà al centro di incontri con sindacati cittadini ordini professionali per approdare poi durante l'estate all'approvazione del consiglio regionale quali sono gli obiettivi principali sono l'abbattimento delle liste d'attesa della mobilità passiva utilizzando anche l'apporto del privato convenzionato e poi l'investimento su una sanità del territorio non più ospedali che centralizzano i servizi ma una risposta calibrata su vari stabilimenti sono queste un po' le novità vedremo come verranno realizzati questi impegni e se poi funzioneranno si istituisce comunque una centrale operativa numero 11 61 17 un servizio telefonico gratuito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 quindi anche i giorni festivi anche le domeniche per le cure mediche non urgenti e poi vi invito a proseguire la lettura di questo articolo che può essere interessante comunque siamo sempre a livello ancora di intenti di previsioni di impegni e non ancora nella fase esecutiva esami e cure l'esido parte da qui in 10.000 si ricoverano purtroppo altrove le trasferte sanitarie della nostra provincia sono molto note si indirizzano verso l'Emilia Romagna e pesano per 39 milioni di euro sul bilancio regionale questo è un po' l'ammontare della mobilità passiva sui costi della regione e per quanto riguarda Pesaro voglio invece evidenziare l'inaugurazione di questo parco molto molto bello specialmente per i bambini si tratta di un parco avventura inaugurato il parco con 17 percorsi sospesi sugli alberi divertimento per bambini ragazzi e famiglia Villa San Martino l'ingresso da via Togliati costo dei biglietti da 7 a 26 euro ebbene Pesaro avventura è veramente ricco di divertimento e di iniziative originali tra le attrazioni principali ci sarà il villaggio del West dove i bimbi si potranno divertire entrare nelle casette scoprire provare botole passaggi e utilizzare utensili ed attrezzi in vari giochi e poi ci sarà il Tri Village un carosello composto da 6 case sugli alberi collegate da ponti di rete e tunnel uniti da 2 grandi cubi dei quali è possibile saltare e provare il brivido dell'altezza insomma è un campo interattivo un campo che non è solo da passeggiare da guardare o da stare seduti ma è un campo dove si fa anche dell'esercizio fisico e si provano delle emozioni e quindi è una bella attrattiva per i bambini a questo punto guardiamo il Corriere Adriatico abbiamo l'apertura dedicata alle previsioni turistiche per la Pasqua gli albergatori appesi al meteo l'affluenza Pasqua è incerta ebbene tutto dipenderà dalle condizioni atmosferiche il settore degli alberghi si è già attrezzato per accogliere i turisti di Pasqua ma gli albergatori non si fanno però tante illusioni sanno benissimo che l'affluenza gli arrivi dipenderanno se ci sarà bel tempo e le previsioni non sono tanto ottimistiche occorrerà aspettare magari qualche giorno in più per avere del sole per avere anche una temperatura più gradevole abbiamo ricevuto molte richieste di informazioni ha dichiarato luciano cecchini che è presidente degli albergatori molti prenderanno le loro decisioni all'ultimo minuto purtroppo i rapidi coinvolgimenti del tempo demotivano sempre più coloro che tendono a effettuare una vacanza quindi vedranno sabato o venerdì come si prospetta il tempo poi decideranno se spostarsi o meno però c'è una una gradita sorpresa diciamo una bella premonizione si già si vedono dei turisti tedeschi si sa che i turisti tedeschi si muovono in particolar modo verso la Pentecoste però insomma anche adesso in previsione della Pasca qualche avanguardia è venuta a esplorare il nostro territorio quindi vuol dire che la promozione che è stata fatta nelle diverse fiere funziona e funziona bene e poi una tappa importante invece Fano risulta per quanto riguarda i viaggi che si fanno verso la Grecia passando per il porto di Ancona ci si ferma a Fano a tratti magari dalla romanità della città e poi la notizia di Vitruvio ha un po' scosso il mondo degli amanti dell'archeologia ma anche gli studiosi appunto dell'epoca romana e quindi chi va in Grecia attratto dalla civiltà greca si ferma anche a Fano perché Fano è una città romana molto bella e molto ben conservata speriamo che sia più fruibile per quanto riguarda la visita delle zone archeologiche e poi passiamo ad Urbania ad Urbania si dibatte il tema della siccità abbiamo il problema che si prospetta in modo particolare per l'estate dopo che lo è stato anche per l'inverno e abbiamo in questo caso l'ingegner Baldetti che rilancia la funzione dei laghetti per la raccolta di acqua piovana va bene la desalinizzazione del mare come è stato proposto nei giorni scorsi dal geologo Baldelli però in questo caso secondo l'ingegner Baldetti funziona di più una distesa di laghetti che sono dei depositi di acqua importanti da usufruire nei momenti di siccità e veniamo a Senigallia veniamo a Senigallia una buona notizia alluvione si apre l'iter dei rimborsi la piattaforma online è stata attivata sul sito del comune infatti è possibile richiedere la liquidazione dell'acconto sulle spese sostenute e poi abbiamo qui un caso un caso che desta emozione una mamma in lacrime appello disperato non ho soldi per la gita di mio figlio il figlio frequenta una scuola media la mamma non ha soldi per mandarlo in gita e certo lasciarlo a casa mentre tutti i suoi compagni si divertiranno e faranno anche una gita a distruzione interessante importante anche per la loro cultura per il loro crescimento culturale ebbene è una cosa che non va bisogna aiutarlo e chi l'aiuta sono gli stessi stranieri che hanno fondato una associazione racconta Mohamed Mali presidente di stracomunitari che ha notato questa mamma che piangeva mentre frequentava la fila per ricevere per ricevere degli aiuti il figlio frequenta le medie la classe doveva andare in gita ma lei non aveva soldi per pagare la quota la cifra non era elevata e abbiamo provveduto noi ad aiutarla perché ci sembrava giusto che il figlio avesse le stesse opportunità del resto della classe e non si sentisse emarginato ebbene quello delle gite scolastiche non dovrebbe essere un provvedimento che discrimina gli studenti che hanno delle possibilità e quelli che non le hanno se una classe va in gita ci devono andare tutti non è possibile che alcuni restano a casa si sentono penalizzati si sentono vittime si sentono discriminati e non è giusto questo che accada veniamo anche qualche notizia di Pesaro sul Corriere Adriatico e vediamo come l'apertura è dedicata alla viabilità del centro storico dove c'è la ZTL ZTL centro senza regole stop a sosta selvaggia e ha i permessi in eccesso il quartiere centro 1 chiede al comune di rivedere gli accessi con un nuovo piano al momento il rapporto è di un parcheggio ogni 5 autorizzazioni ed era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle 7 e per le notizie del giorno alle 20.30 dell'ETG di Fano TV occhio alla notizia questo per il momento è tutto a risentirci di Fano TV Grazie a tutti.